No Uff Wow E' difficile Ce la sto mettendo tutta Ma è difficile Poi non ho più materiali Spero che lui abbia finito quel cacchio di razzi Perché è una ingiustizia che lui ci abbia i razzi E adesso ci scimette pure l'altro No vabbè Ciao amici iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti E attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Fortnite Abbiamo fatto la partita leggendaria con 11 uccisioni Partita è veramente E' stata una partita bellissima Build battle, le uccisioni, i cecchinate, razzi, tutto E' stata una partita pazzesca Spero che vi piaccia Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate Raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo video Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti E adesso guardatevi questa partita da 11 kills nelle Bat Royale Stiamo atterrando qua nel cratere in questa nuova fantastica partita Vediamo un po' se qua c'è del loot interessante Cosa abbiamo sbagliato di tutto zona Oh che cacchio Pensavo qua di trovare qualcosa E non abbiamo trovato niente Allora qua ci abbiamo trovato qualcosa Perfetto Qui qualcos'altro Abbiamo trovato un bel po' di armi Non sappiamo neanche se c'è qualcuno qui con noi Allora cerchiamo qua adesso di salire qui sopra Che c'è un bel tesoro che possiamo prenderci Secondo me quello là ci avrà ormai sentito Se c'è qualcuno E lo uccideremo con una bella mitraglietta Perché la mitraglietta è un'arpa veramente potentissima Però Eccolo Lo vedo Lo vedo Eccolo Oh Fa il giro Fa il giro E ciao Non so che cosa sta facendo Vediamo di ucciderlo Vediamo di ucciderlo E' proprio qui Guarda qualche parte Che sta scappando Eccolo Finalmente Guardalo Guardalo Wow Aiuto Era un cacchio di coso Era un cacchio di Come si chiama Era semplicemente uno school trooper Ormai le school trooper non capisci mai che cosa sono Se sono forti Se sono belli Se sono bravi Uh Arriva uno Uh Attenzione Uh 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 Fantastico Ucciso Perché laggo Perché sto laggando Veloce veloce Prendiamoci il loot Arriva qualcun altro Arriva qualcun altro Ho l'impressione che stia arrivando qualcun altro Attenzione Prendiamoci qua subito il loot E ci prepariamo Sì Finalmente un'arma interessante Uno scar silenziato Fantastico Dai Dai che arriva qualcun altro Lo eliminiamo subito Allora continuiamo a lootare questo bel cratere Perché stiamo facendo già delle belle uccisioni Mi sto divertendo tantissimo E qui possiamo ancora lootare Perché secondo me Qua la gente non ha neanche iniziato a lootare in questo posto Oh che bello C'è anche un bel succo soccoso Fantastico Sì Che bello Un succo soccoso Lo posso bere Posso bere tutto Glug 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 Perfetto Adesso mi sento potente Dopo aver bevuto il succo soccoso di Superman Comunque se arriverà qualcuno arriverà da questa parte Perché di solito la gente arriva sempre dal magazzino E quindi aspettiamoli da questa parte Se ce la facciamo Ma secondo me il loot è già finito in questo posto Che gran peccato Questa è la quarta partita del giorno E per adesso è iniziata molto 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 bene Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare qui al cratere Ma no anzi facciamo una cosa Ce ne andiamo anche via Perché sinceramente stare qui al cratere sarebbe un po' inutile Visto che se già non c'è più nessuno Non ha senso aspettare qui qualcuno Ah giusto Ho bevuto succo soccoso Mi ero dimenticato Oddio Andiamo verso il magazzino Ma si andiamo verso il magazzino Poi risaliamo sopra E cerchiamo di capire se si sta avvicinando qualcuno Oh che bello Abbiamo trovato qualcosa Aspettate Per una volta il fucile da caccia lo tengo Perché ultimamente butto sempre il caccia E non lo tengo Adesso lo voglio tenere What? Ho sentito qualcosa o sbaglio? Aspettate A parte che qui non hanno neanche lootato Oh Che bello C'è del loot per me Si C'è del loot per me E qui non mi ha visto nessuno Perfetto Tanto mi avrebbero Oh Aiuto Wow Ma che cacchio Cos'era un Era un superman Aiuto No Ah ok Ok Oh 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 Aiuto Dov'è? Dov'è cacchio andato? Aiuto Dov'è? Dov'è andato? Ma dove cacchio è andato? Ma che cacchio è? Ma dove è andato? Ah è qui È qui fuori Oddio Eccolo Oh 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 Fantastico Oddio Ma aveva ucciso qualcuno Questo nel frattempo Perché secondo me Aveva ucciso qualcuno E infatti avevo urlato Perché pensavo che avessero ucciso La mia La mia preda E invece no Questo Aveva ucciso qualcun altro Wow Fantastico Allora sapevo che c'era qualcuno Infatti avevo sentito un piccolo suono E avevo detto Aspettate Ma c'è qualcuno qui intorno E infatti si C'era un piccolino C'era un piccolino Era un piccolino E l'abbiamo anche ucciso Perfetto Abbiamo trovato anche altre granate d'urto Queste qua ti salvano la vita Come potete vedere Spero che questo video vi stia piacendo Raggiungiamo i 3000 mi piace Per un prossimo fantastico video Iscrivetevi al canale Premendo il tasto rosso Iscriviti Così non vi perdete Questi bellissimi video di Fortnite Ho buttato giù per sbaglio un albero Che cacchio Ora è la mia fine Ora è la mia fine Perché mi avranno sicuramente visto E invece no Non mi ha visto proprio nessuno Andiamo verso l'isola volante Che verso l'isola volante Sicuramente ci c'era qualcuno Dai Ah no Uh c'è qualcuno E mi ha anche visto Boom Beccato Beccato Ucciso Ma che cacchio faceva questo piccolo David David piccolino Ha visto troppi streaming di ninja Ha detto Io quello uccido Io quello lo uccido volando E invece non ce l'ha fatta Non ha avuto il tempo di reagire Che peccato Però è interessante È interessante che questi provino a fare queste cose Perché bisogna provare a fare queste cose Per migliorare in questo gioco Se no non migliorerete mai a giocare Oh Guarda No No Aspettiamo Aspettiamo Non devono capire che c'è qualcun altro Ecco No No Eh Aspettiamo va Eh Quelli fanno il giro giro tondo Eh non è giusto Oh Velico Caja Velico caja A casa A casa dovete andare Eh ciao Se sto fermo qui poi mi cecchinano Meglio che Meglio che ci muoviamo Non lo so Ok Quello mi ha visto Non so se neanche mi ha visto Ok Perfetto Adesso mi ha visto Adesso mi ha visto Wow Uh Volevo fare una cosa interessante Volevo fare una cosa interessante Ma non ce l'ho fatta Mamma mia Mamma mia Attenzione Aiuto Sono in Sono in trappola Sono in trappola Questo si ruba Questo si ruba il mio loot Dove Dove è cacchio andato Oh è qui Perfetto Uh Aiuto Sono spaventato Comportiamoci meglio Wow In volo Potevamo provarci Wow Un altro Attenzione Arriva un altro Arriva un altro Noi continuiamo qua a mirare Perché se adesso Tipo tira fuori la testolina Non posso cecchinare Poi me ne scappo via Con la granata d'urto Eh sì È ovvio Faccio questo Io cerco di fare questo Non vuole farmi ammazzare Cosa No dai Hai messo No 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 Guarda quell'altro Oh mio dì Ma quell'altro Si è messo anche fermo No Potevo cecchinare quell'altro O forse questo ha creato il muro Così io potevo cecchinare quello E lui poteva cecchinare me Questo schifoso Sta arrivando da me Ma che cosa vuole Ah si prende il loot Si prende il loot Perfetto Penso che l'altro non sa Perché ci sia io O forse lo sa Noi comunque aspettiamo Se quello lì posso cecchinarlo Lo cecchino giustamente Perché non mi sembra tanto forte Eccolo Guarda guarda Guardalo Wow È sceso Lo vuole prendere Attenzione Sì Cerchiamo di uccidere il primo Che rimane fermo Io non so cosa stanno facendo Ma si sono anche impallinati Infatti guardate E lì fermo Oh eccolo E' fermo lì al muro Che si stanno sparando Che cosa fanno Guarda lì Andiamo Andiamo Facciamo il giro Facciamo il giro Aspettiamo Non so cosa vogliono fare Il primo che esce Lo ammazzo Il primo che esce Lo ammazzo Sì però non possiamo stare fermi così Ok Perfetto Così almeno non ci sparano Oh ciao Guardali quanto sparano Ma io non capisco dove sono Ma sono nelle scale Sono nelle scale questi Vediamo È uscito Wow L'ho ucciso L'ho ucciso Wow Eccolo Oddio Usciamo Ci siamo salvati Dov'è Dov'è quello Non lo vedo Andiamo via Perfetto Continuiamo a scappare Quello muore dalla tempesta Via 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 Cacchio No che male Ok via 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 Scappiamo Se riesco a vederlo Provo a cecchinarlo Se riesco a vederlo Provo a cecchinarlo Wow Questi qua stavano fightando Tra la scala di metallo E l'altra Wow Guardalo Capisce Sa che tipo è fuori E tipo disperso E quindi Mi sta cercando anche lui di sparare Mi voleva indebolire Cacchio Potevo ucciderlo con il pompa Ma solo che Ho spagliato a switchare Dovevo switchare il pompa Eh vabbè Quello adesso mi spara e mi ammazza però Dobbiamo stare molto attenti Dobbiamo continuare a correre in questo modo Capire dove sta Quello E stare attenti Dov'è che è? Dov'è che è? Dove si trova quello? Dove si trova? Non lo riesco neanche a vedere Cioè Pazzesco Non sappiamo neanche dove si trova Uffa La prossima Il prossimo bordo è troppo lontano Per cercare di aspettare questo E provare a fare qualcosa Quindi lasciamolo stare E cerchiamo di salvarci la vita Uffa Mamma mia Cacchierola Che partita intensa Andiamo subito Abbiamo per fortuna Due medic kit Volevo raccogliere lo shield Come potete vedere Ma non ce l'ho fatta Perché quello lì Ero concentrato più a sparare E quindi Non ho potuto fare niente E che cacchio Qua c'è anche qualcuno Attenzione Qua adesso ci curiamo E stiamo attenti Che non ci sia quello lì Dietro le mie spalle Devo per forza curarmi Perché davanti a me Ci sarà altra gente Da ammazzare Quello però Quanta Quanta Avrà qualche cura Forse ce l'ha Forse ce l'ha Forse ce l'ha Noi adesso andiamo Che abbiamo altre persone Da uccidere davanti a noi Non ci credo Sta arrivando È un fantasma È un fantasma Eccolo Guarda 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 No Guarda È lui È lui È lui È lui È lui È lui Sì Frederick Frederick SG Ritorno su Minecraft Infatti si chiamava Survival Games SG Piccolo SG Ok Prendiamoci tutto 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 Oh no Non ho preso il pompa Non ho preso il pompa Chi se ne frega del pompa Chi se ne frega del pompa Qua ci dobbiamo curare subito Perché secondo me arriva qualcuno da quella parte L'altro da quella parte Hanno fightato Ah no Era Guarda guarda Sta già correndo al prossimo bordo Perfetto Lasciamolo stare Wow Spero che questo video vi stia piacendo Raggiungiamo i 3000 mi piace Iscrivetevi al canale Premendo il tasto rosso Iscriviti per supportare questa fantastica serie di Fortnite Volevo prendere anche l'Ivy Shotgun Ma non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta prenderlo Quello lì aveva usato alla fine il cubo Per diventare un fantasma Mossa intelligente Solo che io l'avevo anche visto Quindi è stato un peccato per lui Perché io 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 Cerco sempre di fare più kills possibili Io io Cerco di fare più kills possibili E quindi vi giro sempre alle spalle per guardarmi E adesso dobbiamo dare il prossimo bordo Ma per fortuna che abbiamo tante cose E abbiamo anche un bellissimo launch pad E adesso ci prendiamo questo bel airdrop E controlliamo che cosa contiene Uuuuh Leggendario Trovato leggendario Ci beviamo questa Veloce Perfetto Ci prendiamo questo Ok E adesso andiamo Il launch pad potremmo anche tenerlo per dopo Volevo utilizzarlo già adesso Ma tanto ho scoperto che abbiamo abbastanza tempo Per entrare nel prossimo bordo Secondo me Uuuuh C'è qualcuno lì C'è qualcuno lì No 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 Ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto Adesso questo mi ammazza Che cacchio Eh chi è fuori È lui fuori Credo che sia lui fuori Guardalo Mi vuole cecchinare Mi vuole cecchinare E' bravo E' bravo E' bravo E quindi Sarà difficile Da ucciderlo questo Oddio Ok beccato L'importante è beccarlo Indebolirlo Sì vabbè Se spara raffica con questo Però non posso Spara raffica con questo Eccolo Eccolo No Dai dai Uffa Uffa Quanti proiettili ho 150 Eh Dai Ma che cacchio Avevo Avevo la mia spilenca E che cacchio è quello Che cacchio è un noob Andiamo andiamo Prendiamo questo Uhuh Fantastico Uhuh Questo qua l'abbiamo fatto arrabbiare Attenzione Uhuh Oh cacchio L'abbiamo cecchinato Wow No attenzione Attenzione Che qua mi possono cecchinare Attenzione Eh vabbè Adesso cerchiamo di curarci Wow Mamma mia Che partita intensa Sì sì Tu non mi cecchini Tu non mi cecchini So già cosa vuoi fare Eh vuole cecchinarmi Già ho capito cosa vuole fare Questo vuole A tutti i corsi cecchinarmi Vuole solo cecchinarmi Perché è bravo Ok Guardalo Cacchio Appena ritolgo tutto il blu Provo a rasciarli Guardalo No È un peccato Adesso non ce la facciamo ad ucciderlo Ho fatto bene a utilizzare il coso Come potete vedere Il Il launchpad Che fortuna aver trovato questo piccolino Quello è distratto là Ok Guarda 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 Guardalo No Ma dai Questo qua vuole cecchinarmi Il problema è che lui ce la fa a cecchinarmi Ecco perché sono spaventato E dai Sì Sì Dai Fantastico È lì sotto Lo vedo Sì Finalmente Vauti rotta Basta È rotto È rotto Vauti rotta È rotto Vauti rotta È rotto Andiamo andiamo Veloce veloce Ci prendiamo i suoi materiali E ci prendiamo i suoi scudi Sì Ci prendiamo tutto qua Ci prendiamo tutto Perfetto Ok Eh Curiamoci due secondi Prima di entrare dalla tempesta E poi andiamo Perché siamo rimasti in tre Sì 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 Fantastico Veloce Quello però Non mi piace Quello non mi piace per niente Non mi piace per niente quello Sembra essere Sembra essere bravo Wow Cacchio Ci ho provato Ci ho Ci ho provato Wow È stato bravo Mi ha fregato Cacchio Mamma mia Ci ho provato È veramente forte Infatti Sapevo che mi stava guardando Ma non mi andava di perdere tempo Costruendo Adesso entriamo E poi ci facciamo una bella torre Tanto quello Vuole fare una torre Quindi Dobbiamo farcela anche noi Anche perché Wow No 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 cacchio Vediamo Vediamo dov'è Si trova da quella parte Allora questo qua è un casino Combatterci contro Perché usa il lanciarazzi Quello schifoso Usa il lanciarazzi Perché ha la possibilità di usarlo Eh però noi non abbiamo niente Eh non abbiamo niente No Mi ha beccato Perché mi hai beccato Cacchio Non dovevi beccarmi Questo è fortissimo Questo è forte Il problema è che non mi farà fare Neanche tipo Eh vedete Non mi farà fare nessuna torre Mi butterà giù in continuazione Ormai Ne ho già Ho già capito Che cosa vuole fare questo Dovevo aspettare Invece mi sono già fatto targettare In questo modo Uffa Facciamo tutto il giro C'è uno che si sta nascondendo E secondo me È sotto di lui Infatti qua da me Non c'è proprio nessuno Non è in quel cespuglio No è impossibile Allora se non è in quel cespuglio Deve essere da lui Ecco What What Oddio Ha pushato Ha pushato Come è possibile Questo mi vuole uccidere No 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 Ah perché Ecco perché mi ha pushato Perché sono già dentro Fantastico Ok Guardalo come si nasconde Guardalo come si nasconde Oh cacchio Perfetto Ucciso Quasi ucciso Quasi ucciso Wow Mamma mia Attenzione L'abbiamo fatto arrabbiare Questo è buono Però Questo è forte Mi spaventa No Uh Wow È difficile Ce la sto mettendo tutta Ma è difficile Poi non ho più materiali Spero che lui abbia finito Quel cacchio di razzi Perché è una ingiustizia Che lui ci abbia razzi Eh Wow E adesso ci scimette pure l'altro No Vabbè Non so che cosa fare In questa partita Mi stanno tutti targettando Targettiamo noi quelli invece Vediamo dov'è Vediamo dove ci trova E spariamoli Oh cacchio Questo mi vuole pushare Ok Uh uh No Troppo Troppo basso Troppo basso Cacchio Guarda dov'è Eccolo Eccolo Uh Qua tutti ce l'hanno Uh uh Ok Eccolo Guardalo 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 Indietreggiato Sì Sì Non ci credo Abbiamo vinto Sì Undici uccisioni Non ci credo L'ho ucciso Questo qua l'avevo ucciso Con il pompa Fantastico L'ho ucciso Con il pompa Da lontano Pazzesco Mi ha lasciato con quattro Capito Questo giorno E che era veramente Un giorno E veramente fortissimo Spero che questo gameplay Epico Da undici uccisioni Vi sia piaciuto Raggiungiamo i 3000 mi piace Per un prossimo video Iscrivetevi al canale Premendo il tasto Se iscriviti E ci vediamo A un prossimo video Ciao ciao